Sì, iniziamo con la seconda parte, di carattere più tecnico, perché sta andando avanti. Sì, è partita. Sì, sì, è partita. Sì, sì, no, era partita. Ok, la seconda parte è seminario, di carattere più tecnico, è specifico verso le nuove tecnologie in ambito di big data. Forse, mettono in pausa, metto in pausa quello, se forse. Ok. Abbiamo preparato, insieme al gruppo di data processing di Altec, quello che secondo me rappresenta un po' lo stato dell'Altec nel settore di big data. Sono parecchie slide, vorremmo condividere con voi il percorso che stiamo facendo. Andrò veloce su alcune parti. Quando avete delle domande, fermatevi senza nessun problema. Preparando queste slide, un po' mi sono chiesto la seguente domanda. Big data ormai è un termine strausato, che spesso porta anche a confusione. tra i vari attori presenti nel mercato. Però cosa interessa, sostanzialmente, a una comunità scientifica? È l'applicazione delle tecnologie di big data nel settore scientifico. Quindi, provo sostanzialmente a evidenziare le caratteristiche che possono essere utili in ambienti scientifici. Ovviamente, la parte social del big data nel ambiente scientifico, anche se qualcuno sta provando a creare ambienti soliti, ma non è il core business per quanto riguarda la scienza. Altre parti, invece, sono direttamente applicabili. E dal mio punto di vista, scientifici di big data indicano, in ambito scientifico, i dati utilizzati in progetti che hanno le definità scientifiche, sia essi acquisiti nel progetto stesso, o anche provenienti da altri progetti, ma che hanno una funzione all'interno del processamento scientifico. Le definizioni che si trovano in letteratura sul tema del big data sono tantissime, le più svariate. Il termine nasce da un articolo della NASA, in ambito di visualizzazione. Il primo caso è stato quello, sostanzialmente, di flottare i graficati del termine del big data, Allora, questo problema è stato taggato con il termine del big data. Da lì, sostanzialmente, le definizioni si susseguono. E in particolare, cosa hanno queste definizioni di comune? La dimensione dei dati, la grossa dimensione dei dati, è il fatto che i software tradizionali non riescono a gestire queste grosse moni di dati. Quindi, servono delle nuove tecniche. Qui ho elencato alcune definizioni. C'è un report di McKinsey, che è il report che si trova maggiormente in red per quanto riguarda la parte di big data. Ci sono diversi libri. È l'obiettivo finale. Però è quello che queste nuove tecniche devono riuscire a creare valore, valore inteso, come informazione che si riesce a starare da questi dati. Informazione non facilmente, diciamo, fruibile e non facilmente individuabile. La figura in basso della chart è presa, sostanzialmente, dal sito del gruppo Amplab dell'Università di Berkeley. C'è un gruppo, sostanzialmente, che studia nuove tecnologie e che sta creando anche delle infrastrutture di ritenimento. E, secondo me, è esplicativa quella definizione. Data that is expensive to manage and hard to extract value from. Perché è vero che si hanno a disposizione delle nuove tecnologie, però queste, bisogna metterlo, sono spesso difficili da utilizzare, da gestire. Anche perché sono svariati, sono n, non ci sono standard ancora presenti e si fa fatica a volte a individuare qual è lo strumento giusto e, soprattutto, è necessario un grosso sforzo iniziale prima di riuscire a capire la potenzialità di qualcosa che realmente esiste. Queste sono, sostanzialmente, le caratteristiche che i dati devono avere per essere, diciamo, sostanzialmente, classificati come big data. Abbiamo la parte di volume, già abbiamo parlato delle dimensioni. Abbiamo la parte della velocità, nel senso che i dati ormai sono acquisiti in modo continuativo. Abbiamo sensoristica sparsa ovunque, in particolare per la media scientifica. Come detto prima, in altri ambienti ci sono altri generatori di dati, però hanno interesso, sostanzialmente, la parte scientifica. Quindi, sensori ne abbiamo di diversi tipi, che lavorano in modo diverso, sensori installati sulla Terra, sensori sullo spazio. Quindi, questi continuano ad alimentare i nostri repository. Il dato è vario, nel senso che abbiamo dati strutturati, segni strutturati e dati non strutturati. I dati strutturati sono i dati che abbiamo nei nostri database. Ad esempio, una missione è un qualcosa che è pensato, che è definito, quindi, sostanzialmente, siamo dati strutturati. Però, poi, si possono avere anche dati, diciamo, segni strutturati, che sono sostanzialmente, tanto che non è proprio organizzato con una struttura ben definita, però ha sempre dei dati, che ha, sostanzialmente, degli indici che permettano di accedere, in particolare, nel dato che è informato XML. Nell'ambito scientifico, i dati, magari, non strutturati, testi e altri tipi, diciamo, di dati di questo tipo, sono meno presenti. Quindi, diciamo, le due categorie principali della verità sono strutturate e non strutturate. la veridicità del dato, in ambito scientifico è fondamentale, la qualità del dato, la qualità della misura, cioè, se non è qualitativamente buono il dato, non si riesce a passare all'ultimo valore, che è quello più importante, l'estrazione del valore dell'informazione. Qui, brevemente, diciamo, sono state riportate le caratteristiche che ho già espresso. e, in particolare, facendo la diretta correlazione, nell'ambito scientifico, cosa abbiamo in termini di volumi? Noi abbiamo archivi che ho già, in alcuni dei casi, raggiungo l'hexabyte di dati. La tipologia principale di dato che noi abbiamo sono gli array multidimazionali. Questo dovrebbe essere l'elemento principale che caratterizza il dato. La sensoristica, che è migliorata notevolmente, grazie, diciamo, agli sviluppi elettronici, genera dati in continua crescita. Una caratteristica è che questi dati spesso devono essere analizzati nel tempo, quindi vedere dall'evoluzione che questi dati hanno nel tempo. E, nel contesto, magari, delle missioni, anche il processamento del breve periodo devono essere analizzati, perché bisogna dare subito un output, un feedback, che ha un ruolo all'interno della missione stessa. Per quanto riguarda, invece, la varietà, una caratteristica importante è anche il discorso che noi creiamo degli archivi per missioni e per progetti. In un secondo momento si scopre che possono contenere informazioni che è utile anche per altri studi. Allora, a quel punto, quel dato, diventa una nuova importanza per un nuovo pipeline, per un nuovo processo di estrazione di dati, di informazioni. Tornando un po' indietro, la storia informatica ci pone, sostanzialmente, a dire ma, già qualche anno fa, qui nel termine di Big Data, vi erano esempi dove vi erano grosse moli di dati, sostanzialmente, che dovevano essere processati. È vero, l'approccio era un po' diverso. Nel senso che si avevano, secondo me, degli strumenti che rientravano nella cosiddetta business intelligence, cioè tutta una serie di tecniche che si basavano sulla statistica descrittiva. E andavano bene, si riuscì effettivamente a descrivere e a estrapare l'informazione dal dato. Con l'aumento del dato, un po' si è cambiato un po' l'approccio, nel senso che si sta andando verso un approccio un po' più induttivo, in alcuni casi. Cioè, si parte dal dato per cercare dei debatterni, cercare qualcosa che emerge, e poi si prova, ma anche a dare un significato, dare un significato, diciamo, anche magari fisico. E la caratteristica principale dei tipi di tecniche che si applicano nell'ambito delle abilitate è che vanno più verso la statistica di tipo inferenziale. Si danno più, magari, delle previsioni, l'obiettivo è quello di predire qualcosa oltre a descrivere un dataset. Il comune, diciamo, come dire, il comune understanding, che è gli strumenti tradizionali, arrivano fino a un certo punto, quindi sono stati implementati nuovi modelli. Uno dei modelli che partono dalla fase di gestione del dato, ma anche poi arrivano alla fase di processamento e di estrazione dell'informazione. Per quanto riguarda la parte di gestione del dato, sono stati introdotti i cosiddetti non SQL database che sono del modo di organizzare i dati in modo diverso, che abbandona la logica relazionale. Per quanto riguarda la parte dell'elaborazione, poi affronteremo nel dettaglio, però sostanzialmente cambia il modo di scrivere e di pensare gli algoritmi introducendo un ulteriore e un più spinto concetto di parallelismo. E per intenderci, tutti i framework math, reduce, like, perché sostanzialmente è questo il tempo con cui si identificano, tutti vanno verso questa direzione. Qui sostanzialmente ho voluto fare un po' un elenco di quelli che sono magari i progetti più interessanti in ambito scientifico che affrontano la problematica della gestione del dato. Oltre ai progetti in campo astronomico, che magari sono quelli più vicini, abbiamo anche il progetto Genoma, il progetto Human Brain, che stanno applicando queste tecnologie. Ad esempio il Cineta dovrebbe essere impegnato, coinvolto anche nel progetto Human Brain, che dà l'impotenza di calco sostanzialmente a questo progetto. Per non parlare comunque dell'esperimento dell'HC, dell'HC del CERN. Una cosa che ricorre, che io non conosco proprio, cosa vuol dire un database, se si può dire in poche parole, fondato su logica relazionale? che implementa l'algebra relazionale, concetto di tabella e relazioni tra tabelle. Questa è sostanzialmente la base del database relazionale, che il dato è descritto secondo l'algebra relazionale, che è un algebra abbastanza stricida, con delle regole, da cui si tirano poi i concetti di tabella e relazioni. Questa è la base del RDPMS. La parte fondamentale è quindi l'estrazione delle informazioni. Il dato spesso è nascosto, ci sono diverse tecniche. L'obiettivo principale è quello di tirare fuori dei pattern. Ora, salto secondo me questa parte che va ad elencare tecniche di classificazione, tecniche di clustering, le vediamo velocemente perché secondo me in base anche ai discorsi che abbiamo fatto prima, durante il coffee break, dovreste essere già dentro sostanzialmente questi concetti. Prima però voglio un attimo sottomarmi su questa parte qui, su questa slide che sostanzialmente fa vedere il ciclo di vita del dato prima di arrivare al valore, che dicevamo poc'anzi. Prima di applicare tecniche di data mining, sono estremamente importanti le fasi iniziali. Il dato di per sé può contenere rumore, può non essere un adatto ad applicare delle tecniche di data mining. Quindi sono necessari fasi di preprocessi, fasi di trasformazioni, che sostanzialmente riducono la complessità del dato, magari selezionando soltanto le dimensioni che ci interessano, riducendo magari anche la dimensione stessa, perché scattiamo il dato che non ci interessa, per poi arrivare anche a una fase in cui effettivamente la parte del dato mining utilizza il dato che qualitativamente è buono. La fase finale ovviamente poi dall'informazione che tiriamo fuori è importante riuscire ad interpretare questa informazione. E qui si aggancia più la parte di data, magari visualizzazione, spesso magari la visualizzazione visiva del dato in un determinato formato da un modo più veloce di riuscire a percepire quello che è contenuto nei dati. Data mining sostanzialmente era qualcosa che esisteva prima dell'avvento, diciamo, delle tecniche del big data ed era sostanzialmente un intreccio di tecniche statistiche, tecniche di machine learning, pattern recognition, dicono recognition e sistemi database più potenza di calcolo, ovviamente. Cosa è cambiato con l'avvento dei big data? Il fatto che alcune tecniche non sono più applicabili. perché? Perché o le risorse non sono necessarie ad eseguire il processamento o il tempo necessario ad eseguire un determinato tipo di analisi di data mining non è tale per cui si ha la risposta in tempo. Quindi serve sostanzialmente un nuovo approccio che permette sostanzialmente di scalare gestendo la multidimensionalità del dato e la quantità del dato. Si sta andando quindi verso una possibile riscrittura di algoritmi in senso parallelo sfruttando le nuove architetture che sono disponibili. Questa è una caratteristica che apre le porte sostanzialmente a questo cambio di paradigma. salterei sostanzialmente questa parte che parla di cosa sono le regole di associazione la classificazione sostanzialmente sono tutte tecniche di data mining per soffermarlo su questo esempio. Questo esempio sostanzialmente applica sull'algoritmo di classificazione in Gaia. In Gaia uno degli elementi fondamentali per tutte le pipeline è la parte cross-matching. Quando non funziona il cross-matching qualsiasi ulteriore progestamento è affetto dal problema sul cross-matching. Come avviene il cross-matching? Avviene su due in due momenti diversi. Allora il cross-matching avviene su base giornaliera quindi soltanto sulla porzione di dati che ha osservato il satellite nella scansione delle 24 ore e poi su base ciclica quando sostanzialmente si hanno tutte le osservazioni a disposizione. Questo esempio è uno schermo che fa vedere come avviene all'interno delle 24 ore. L'algoritmo base è nearest neighbor matching sostanzialmente un algoritmo abbastanza semplice però l'algoritmo in sé non ci dice niente se non andiamo a vedere sostanzialmente come il dato arriva all'algoritmo quello che sostanzialmente è stato fatto per poter applicare questo algoritmo. Innanzitutto abbiamo una suddivisione temporale dei dati. il dato temporalmente quindi slot temporali entrano nella pipeline in base al tempo e in base all'attitude quindi all'assetto del satellite viene selezionato dal catalogo la parte sostanzialmente insieme i soggetti che il satellite doveva andare a osservare in quel si pensa che il satellite l'abbia osservato in quel intervallo temporale e sostanzialmente si danno in passo all'algoritmo in sé che è in base che assoglie sostanzialmente l'osservazione alla stella più vicina secondo un progetto di distanza di etaggio e questo però è soltanto la prima parte perché da questa parte esaltano i match le osservazioni che sono state ma poi esalta tutta una parte di roba non matchata questo algoritmo è possibile mandare le soluzioni parallele però ci sono dei propri problemi sui confini perché ovviamente ci conviene spaziale ci conviene temporale e a questo punto interviene una seconda fase dell'algoritmo che è la parte di global match che va a risolvere tutte le anomalie riscontrate in questa prima fase e eventualmente rimettendo in gioco anche alcune decisioni prese perché se risolvono le anomalie e l'associo è un'asservazione è un'asservazione a una sorgente e magari quella sorgente era già associata ad un'altra sorgente ci può essere un problema diciamo di un nuovo caso da investigare e quindi questa è la fase del global xm a livello giornaliero la parte diciamo di crossmatch a livello invece ciclico risolve sostanzialmente il problema anche dei bound tra giorni diversi no per il catalogo per il catalogo intendi gsm o inizialmente sono la stessa cosa perché e qui si parla del catalogo di gaia però il catalogo di gaia la versione 0 è il gsl si parte con il gsl e poi da lì si creano le anomalie sorgenti e a quel punto poi il catalogo ha una vita propria quindi gli unmatched sono le anomalie sorgenti la campagna le unmatched le unmatched dico c'è tutta una storia però da edt nascono fuori le news sources e queste news sources poi vengono messe nella pelle e poi c'è la fase finale del si chiama mdb integrator sostanzialmente che è qui sotto e che prende sostanzialmente tutte le nuove sorgenti il catalogo e cerca di associare sostanzialmente questo è lo schema a livello di inizio quindi questo per dare un esempio pratico di quanto è complesso ovviamente applicare un semplice algoritmo di datamani presente da anni in letteratura in un contesto dove ci sono parecchi 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 dati altra altra parte diciamo altro capitolo è la parte del cluster analysis dove si cerca di comprendere il contenuto di un dataset estrepolendo appunto dei cluster e anche qui ci sono diverse tecniche una tecnica molto potente è una tecnica basata su densità sostanzialmente dove dato un raggio è un è un intero si definiscono appunto i punti adazetti come punti in nucleo se all'interno del raggio R ci sono almeno K punti punti di porto se hanno meno di K punti dentro R ma sono all'intorno di un punto di nucleo e punti di numero punti che non rientrano in questa classificazione i punti di nucleo di board si interscano appartengono allo stesso cluster sostanzialmente questo algoritmo permette di seguire sostanzialmente le forme del cluster in modo più netto però un'applicazione reale si può scontrare con una serie di problemi legati alle dimensioni e quindi magari a un certo punto bisogna fare delle scelte bisogna magari fare un'applicazione specifica dell'algoritmo che tiene conto del trade off tra la qualità del cluster e quello che si perde il prossimo capitolo invece va verso la parte di architetture e piattaforme quindi siamo mossi all'interno del potere essere creata abbiamo visto quali sono le problematricità che possono nascere nell'applicare tecniche di data mining conosciute adesso andiamo verso le soluzioni tecnologiche a livello di architettura di data store di processamento che sono presenti oggi a livello ICT noi siamo abituati sostanzialmente ad avere a che fare con l'architettura HPC e adesso negli ultimi tempi si sta introdurendo un nuovo termine HTC sostanzialmente col termine HTC si cerca di differenziare il tipo di calcolo che solitamente viene fatto con l'architettura HTC introducendo la variabile del tempo di processamento di una task che aumenta rispetto a un classico approccio HPC HPC lo schema classico è piccolo gioco che richiedono di enorme potenza di calcolo ma limitati magari nel tempo di esecuzione con un approccio più verso l'HTC che è legato sostanzialmente al fatto che essendoci più da disposizione le tasche hanno bisogno anche di più tempo si introduce quest'altra variabile quindi anche le architetture HTC tradizionali stanno iniziando un po' a mutare cioè introducono delle soluzioni un po' diverse dei software dei framework diversi e spesso diventano anche un po' ibride nel senso che alla classica architettura HPC dove un software parallelo gira su più processori si introducono delle architetture che permettono di eseguire un software su più istanze su nodi diversi ad esempio il Cineca che è l'HPC italiano per definizione in autunno ha messo in funzione una nuova architettura una nuova piattaforma Pico dedicata al trattamento del Big Data è un'architettura diversa rispetto al Fermi che avevamo fino all'anno scorso e che ora sostanzialmente è stato superato dalla nuova piattaforma Camileo che è entrata in produzione da qualche mese e il valore dove sta? Sa nel integrare le piattaforme una piattaforma di genere è una piattaforma dal mio punto di vista ibrida che riesce sostanzialmente a rispondere alle diverse esigenze di computazione che ormai le differenti classi di applicazioni presentano questa è una chart presa da una condizione di IBM che un po' dà il senso di qual è l'evoluzione dalle architetture tradizionali ai nuovi sistemi alle nuove architetture che vengono individuate come architetture data-centric un concetto base dietro diciamo tutta questa questa lenga di differenza il fatto che non è più il dato che si sposta nel punto in cui viene la computazione ma si sta cercando di implementare un approccio diverso la computazione viene fatta dove c'è il dato questo cosa vuol dire? vuol dire che il dato deve essere distribuito le architetture devono permettere la distribuzione del dato e che la computazione non avviene più a livello soltanto di core quindi la potenza di calcolo non serve soltanto a livello di core ma la potenza di calcolo quindi l'utilizzo effettivamente diciamo di cicli di CPU serve un po' su tutta l'architettura per dividere e suddividere le risorse nel punto in cui lo servono sostanzialmente il succo di questo discorso è che si sta andando verso l'implementazione di architetture in tipo cloud questa è l'evoluzione che le architetture stanno avendo dai cluster HPC c'è stato il momento della grid dove si iniziavano si sono iniziate a inserire discorsi di condivisione di risorse workload dinamico di scheduling però la grid era sempre un meccanismo abbastanza bloccato rigido con il cloud si vogliono mantenere queste caratteristiche ma dare maggiore flessibilità e riuscire a sfruttare meglio le risorse che sono presenti nei vari centri di calcolo anche magari federandoli creando sostanzialmente delle federazioni di centri questo lo si vede anche nei progetti che a livello europeo a livello nazionale si stanno portando avanti il termine sostanzialmente che sta il termine di riferimento di architettura è il cloud tornando un attimo indietro questo è il discorso dicendo dello spostamento dei dati il discorso anche sempre importantissimo della modularità questo ora poi ci torno quando vi faccio vedere com'è divisa l'architettura PIC del Cineca c'è una slide specifica e un altro elemento fondamentale è effettivamente capire e riuscire a misurare i workload dei vari workflow perché è vero che le risorse all'interno di un cloud sono infinite nel senso che l'utente vede questa nuvola di risorse come infinite ma realmente le risorse sono finite quindi riuscire a gestire bene il carico è sempre un elemento importante questa è l'architettura PICO che è stata creata dal Cineca allora è specifica del Big Data cerca di trovare una soluzione mista tra cloud e gestione delle code classica del sistema HPC quali sono le caratteristiche che è modulare cioè i vari elementi possono essere analizzati e associati a una particolare classe di problema abbiamo la maggior parte dei nodi che sono legati alla parte di computazione però abbiamo poi dei nodi che sono specifici per le applicazioni di virtualizzazione cosa montano? Montano gli acceleratori grafici che è un altro elemento che sta permettendo di scalare abbiamo Big Mem Node questi nodi sostanzialmente anche se hanno degli acceleratori grafici permettono di eseguire framework tipo Spark che utilizzano la memoria sia anche per passaggi intermedi di processamento e infine abbiamo i nodi dedicati a applicazioni tipo ad up in applicazioni tipo ad up poi vediamo sostanzialmente ogni nodo gestisce la sua quantità di storage ogni nodo qui ha 32 terabyte locale tutti gli altri nodi magari prendono lo storage dal solito sistema di storage del Cinec però per queste applicazioni non va bene andare a prendere lo storage direttamente dai repositori centrali servono i cosiddetti sistemi da direct attached storage e in questo caso quindi questa è una architettura modulare più proprio i blocci sostanzialmente una caratteristica di queste architetture è che si sono costruite con tipologie di server di high density che vuol dire sostanzialmente è un server per tutti i confoni è un'evoluzione del sistema blade per intenderci il blade aveva dei suoi bassi abbastanza diciamo origins che erano le soluzioni dedicate non potevi utilizzare non potevi attaccarci altri componenti di large o nel sistema plate con questa soluzione sostanzialmente tu hai un server che prende pochi unit rep sostanzialmente e in base alle tue esigenze metti un modulo CPU metti un modulo di storage metti una scheda che ti attacca PCS esprimazione esterna c'è solo componi tu risparmi in termini di dimensioni sono efficiente a punto di vista energetico e per me permettono di avere architetture che si differenzionato anche il tipo di applicazione però rappresenta sempre una unicoltura unica dove tu con dei livelli software tipo il cloud tipo dei gestori di di calco riesce a ottimizzare le prestazioni dell'intero sistema operativo file system migrazione processi per questa macchina per questa macchina come sono allora tra chi e come sono sistemi in in sono sistemi in in sistema distribuito su questa macchina no qui il cluster ad esempio è un cluster si però si è una sensibilità proprio un po' di tutto allora e c'è sono i casi strumenti del cineta quindi lo store di velifer system dell'ambito cineta e poi hai delle installazioni tipo adup sostanzialmente adup già di per sé si può studiare il concetto di cluster perché quindi non c'è un cluster unico che gestisce tutte queste macchine vedilo come un pool di risorse nel senso che come l'ambito quando c'è questa macchina è trasparente l'accesso l'accesso è simile a quando c'è l'accesso ferni l'hpc è le nuove ruine potete ritrovare sulla macchina e anche qui però c'è intruzio mantenuto il discorso della gestione delle code anche ovviamente c'è la gestione dei processi e chi decide se il processo viene utilizzato meglio su una diciamo sezione cpu o su una sezione non so dei semplici modi che si è solo tanto di però è trasparente è qualcosa che io il processo solo secondo me non è trasparente al momento forse però l'idea è l'evoluzione del mondo se fossi interessati a novembre c'è una call for i test sostanzialmente per loro necessitano di beta test quindi c'è stata una call for i test però l'idea è chiusa possibilmente ce ne potrà essere una quindi attenzione se si aprono questo proprietario perché è interessante è un esempio importante di architettura hai una domanda? no no sì allora abbiamo introdotto il concetto diciamo del cloud la definizione dell'interstandardizzazione americano è che sostanzialmente è un modello di computazione in cui le risorse sono accedute da un pool e questo accesso è conveniente è in modo vivo nel senso che le risorse dal punto di vista dell'utente non sono localizzate in un determinato punto e l'utilizzo delle risorse è on demand altra característica è il fatto che l'allocazione e dilocazione delle risorse è dinamica nel tempo questi sono gli elementi chiari di un'architettura di un'architettura cloud poi ci sono sostanzialmente delle caratteristiche che andremo a vedere dei modelli di servizio e dei modelli diciamo di deployment per quanto riguarda le caratteristiche abbiamo detto service on demand c'è l'utente che si attiva una risorsa non c'è più l'intermediazione ovviamente c'è chi gestisce chi dà la possibilità all'utente però non c'è più l'intermediazione le risorse devono essere accedute tramite la rete quindi potenzialmente è ovunque le risorse sono gestite con un pull questo pull cresce e si riduce e le risorse sono gestite in modo elastico quando non servono effettivamente le risorse sono dell'allocate perché potrebbero servire a qualcun altro un elemento fondamentale poi per sopportare anche il modello di business è il fatto che l'utilizzo di risorse deve essere misurabile deve essere misurabile ovviamente per capire se l'architettura sta scalando e sta effettivamente servendo i suoi utenti da un punto di servizio le stesse misure puoi pagare però nell'ambito dell'installazione magari di cloud nell'ambito scientifico spesso non si si hanno tecniche cloud privati oppure ibridi oppure a livello di comunità quindi più che congetti di pagamento c'è il discorso di divisione di risorse questi sono i modelli di servizio si può utilizzare un software che è messo a disposizione su una piattaforma cloud e questo è il classico esempio di tutta l'applicazione di google in ambito scientifico magari può essere utile andare a utilizzare un tool come google è può essere interessante andare a utilizzare un altro tool di sperimentare da google google official table che permette di operare sui dati carichi dati e hai a tua disposizione gli strumenti sviluppati da google su una piattaforma gestita da google però l'utilizzo è limitato a questa classe di applicazioni almeno dal mio punto di vista poi c'è la parte di piattaforme come servizio e che sostanzialmente l'utente esegue un remoto un'applicazione una piattaforma software e facendo il paragone sostanzialmente con l'esempio che vi ho mostrato del dpct è come se il framework del dpct fosse gestito su una piattaforma cloud quindi il livello sostanzialmente di gestione che l'utente ha è questo livello e questa è la parte che siamo interessanti è difficile riuscire al momento ad utilizzare il cloud in questo livello di servizio per la parte di missioni scientifiche sarebbe interessante arrivare a quel livello lì serve un processo di standardizzazione servono delle iniziative che sono in atto perché se si riesce ad arrivare a quel livello di servizio si semplificano parecchie tasse di gestione dell'infrastruttura effettivamente l'utente si concentra sulla sua classe di applicazione invece al momento diciamo dov'è lo stato dell'arte è soprattutto centrato sulla parte di infrastruttura come servizio qui si è la parte più spinta ci sono parecchi framework parecchi tool toolkit che permettono diciamo di avere questo livello in cui sostanzialmente l'utente può disporre di una risorsa in remoto una risorsa può essere una macchina elettuale può essere un per system può essere una risorsa man mano le classi di risorse si stanno espandendo sempre di più però poi vedremo un esempio di toolkit che vedremo cosa offre questo sostanzialmente sono i casi con cui è possibile diciamo con cui è possibile costruire un cloud private cloud è sostanzialmente un'organizzazione che si crea su un pastore a parte su interno la utilizza e questo è un modello che può essere applicato ad un'azienda ad un istituto una comunità cloud sostanzialmente sono delle risorse di diversi istituti e organizzazioni che però vengono federate e disponibili alla comunità questo è il caso di missioni o progetti che sostanzialmente utilizzano una piattaforma cloud come piattaforma comune e mettono al fattore comune le risorse public cloud sostanzialmente è un'organizzazione messa in posizione dai vari vendor e le organizzazioni comunque c'è un modello business stesso dietro e hybrid cloud sostanzialmente è quando un'organizzazione ha la sua private cloud e per sopperire magari a momenti di picchi ha integrato la piattaforma con una piattaforma pubblica e parlando servizio ha la possibilità di aumentare la propria capacità per chi viene dal mondo della grid sostanzialmente si può fare qualche paragone intanto sono due modi di gestire la computazione che nascono in settori diversi la grid è un ambito scientifico il cloud è un ambito commerciale la grid non si è diffusa oltre al mondo scientifico parecchi progetti parecchi investimenti però è stata alla fine qualcosa che è rimasto interno soltanto al mondo scientifico e che è spesso mai con grandi successi perché gestire il midwool del grid è stato parecchio mai complicato per molte e poi le applicazioni dovevano essere sviluppate con la logica della grid mentre con il cloud come? con il cloud sostanzialmente si vuole sempre mantenere il multitasking il multitenancy come per la grid però si vuole dare all'utente la possibilità di un pass di applicazione secondo i propri criteri senza essere vincolato bloccato allo schema rigido questa è una delle principali differenze e quindi l'idea è quella di avere nel cloud diversi servizi che l'utente si compone a suo piacimento progetti iniziative l'European Grid Infrastructure ha avviato un progetto di cloud federato ci sono delle call Horizon 2020 specifici per le infrastrutture che puntano verso il cluster verso il cloud uno degli attori principali è l'INFN l'INFN ha avuto approvato all'anno scorso nel 2014 il progetto Indigo all'interno di H2020 che è legato all'infrastruttura cluster e un cloud scusate un altro progetto interessante che viene in questo da queste iniziative è un progetto nazionale DHTCS dovrebbe essere Distributed High-True-Fit Computing Service è un progetto nazionale questo sempre campo fila di FN però l'INFN dovrebbe partecipare in qualche modo per costruire un insieme diciamo delle risorse federate disponibili per i vari progetti poi ci sono anche progetti tipo Smart Cities che vennero convolti anche enti di ricerca ma non tanto magari per l'obiettivo in sé diciamo del progetto quello di arricchire essenzialmente rendere migliore l'utilizzo di intervista intero città gli enti di ricerca partecipano per o sviluppare tecnologie o per dare trasferimento tecnologico agli altri partner questo è il caso sempre magari degli MFN che partecipano a Smart Cities più che altro per fare un trasferimento tecnologico verso le piccole e medie imprese che sono presenti nell'ambiente sempre dalla fonte diciamo di MFN ci sono dei grossi ancora problemi affinché diciamo il paradigma cloud si 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 affermi il problema diciamo della gestione delle autenticazioni il fatto che il livello di standardizzazione sono ancora non non molto diffusi tra i vari sistemi sistemi diversi che magari fanno sì che un team spender parecchio tempo a configurare un ambiente con una tecnologia e poi magari una tecnologia dopo un anno o due anni è superata e bisogna iniziare da cavolo perché non è un'altra tecnologia che sta fermando da più opportunità però ha un modo di lavorare di conflittazione completamente diverso e poi servono anche dei rispetti anche legislativi non banali quando si parla di federazione nel mercato quali sono i sistemi open presenti e che hanno un certo livello di diffusione ecoliptus open ebula apache cloud stack e soprattutto open stack open stack negli ultimi tempi ha arricchito di molto il livello di servizi che offre ed è possibile sostanzialmente configurare veramente risorse eterogenee ogni nome sotto l'ombrello rappresenta un modo di open stack che gestisce una tipologia di risorsa quindi un momento quando si mette su un ambiente cloud molto esterno semplicemente si possono attivare tutti questi tutti questi moduli per per fare cosa si può virtualizzare livello di computazione nova si può gestire la rete con neutro si gestiscono dovrebbe essere il i volumi come blocchi tramite quest'altro modulo oppure c'è un nuovo modo di fornire lo storage attraverso oggetti poi entreremo web gestisce oggetti cambia il modo di vedere lo storage non più qualsiasi non più file ma oggetto vivendo l'astrazione che è presente nel linguaggio informazione l'oggetto viene portato anche a livello di storage è possibile gestire le macchine virtuali è possibile è possibile nell'ultima versione gestire risorse ad un quindi le piattaforme cloud si stanno integrando con i nuovi framework con le nuove soluzioni di processamento e di gestione dei dati quindi una risorsa di computazione di tipo mac la inserisco all'interno del mio cloud e l'attivo secondo le modalità del cloud come un altro tipo di risorsa e infine altro elemento importante già citato è il discorso degli acceleratori il discorso qui il problema è che la legge di Moore sostanzialmente per molti è superata nel fatto che non si può più riuscire a ridurre le dimensioni dei transistor e quindi aumentare ancora il numero dei transistor all'interno ma perché in base alle attuali architetture delle CPU è inefficiente altamente inefficiente perché aumentando il numero di transistor le CPU consumano tantissimo quindi il problema è il consumo nelle architetture tradizionali per questo sono state sostanzialmente introdotte le architetture GPU anche per il processing già ci sono da diversi anni sostanzialmente si utilizzano le GPU per fare il processamento perché sono architetture più efficienti più semplici ovviamente il problema va calato su quell'architettura però si riesce a risolvere avere un'efficienza e risolvere lo stesso problema che si dà in pass alla GPU il passo successivo nell'architettura nell'evoluzione di questo tipo di computazione è che se la GPU è separata dal processore con le continie diventa quel punto il bus quindi il passo successivo è stato portare i acceleratori dentro la GPU quindi questo l'ha fatto sia Nvidia sia AMD e si sono e Intel ha presentato un'altra soluzione tra la GPU che è un acceleratore un acceleratore quindi sul mercato attualmente sono disponibili le GPU e gli acceleratori le GPU dai prodotti di schede grafici assolutamente avevano un bel ground su questa tecnologia e l'Intel ha tirato fuori questi acceleratori a questo punto il problema è come utilizzo questo hardware non è banale posso andare a programmare a basso livello che è quello che un po' inizialmente si era fatto con le NB è stato il precursore ha introdotto di Maggio Kuda e rappresenta un punto di riferimento poi in ambito Open è arrivato OpenCL che a vantaggio di Kuda a basso livello è trasversale che permette di andare a programmare tutto l'ardo che abbiamo individuato però è complesso andare a alle valore a basso livello cioè io devo andare a scrivere il mio algoritmo in modo tale che mappa l'architettura dell'acceleratore è complesso sono nati dei framework di alto livello sostanzialmente che mascherano e rendono trasparente questo approccio OpenMP sostanzialmente può essere utilizzato per gli acceleratori e OpenCC per la parte degli acceleratori grafici un esempio di utilizzo di acceleratori è la nuova piattaforma Cineca Davidea sostanzialmente loro hanno ogni nodo a due Intel FI 7100 queste sostanzialmente sono le caratteristiche della nuova piattaforma Cineca stessa tecnologia IBM della piattaforma Pico solo che ogni server è costruito con bloc diversi questi sono blocchi sostanzialmente che sono stati scelti per fare HPC il problema principale di tutto questo cambio è quest'ultima affermazione il problema della portabilità delle applicazioni esistenti se io voglio sfruttare gli acceleratori che hanno messo su quel HPC la mia applicazione deve evolvere altrimenti non li sfrutto comunque per esempio per la parte di software che noi vediamo al Cineca il solutore del sistema gestale dei PCT loro comunque danno supporto nel portare e fare il porting delle applicazioni perché gli ingegneri al Cineca hanno studiato ovviamente il problema e sono loro coloro che hanno maggiore esperienza e li possono guidare per quanto riguarda un'evoluzione di questo tipo per quanto riguarda invece la parte di gestione di storage infatti un po' tardi vado un po' più velocemente la gestione dello storage avviene sostanzialmente con tre soluzioni architetturali diverse rispetto all'approccio classico abbiamo l'hyperscale computing environment che sono sostanzialmente i grossi sistemi tipo quelli che hanno Facebook di Amazon dove hanno fatto cluster sostanzialmente di nodi singoli dove lo storage è tutto distribuito dare attacce di storage tipo sistemi adup tipo sistemi con uno storage per nodo poi abbiamo le soluzioni NAS però di tipo cluster che sostanzialmente i vendor degli storage offrono il servizio di NAS direttamente sulla macchina e questo permette ovviamente di avere un NAS molto più flessibile e utilizzabile e questa è una soluzione che va bene per le piccole organizzazioni ovviamente in una piccola organizzazione si vuole fare un ambiente per i midi dati non va a creare un upper scale computing environment e poi abbiamo le soluzioni object based di storage soluzione HCE sostanzialmente ogni nodo ha il suo storage questa è quando parlavo di server modulari questo è come si presenta un server di tipo identity cioè durante gli slot tu monti quello che ti serve se vuoi un nodo con dello storage metti storage se vuoi memoria metti memoria se vuoi più cpu metti cpu più cpu queste sono alcune soluzioni di tipo NAS il vendor principale in ambito NAS è NetApp il precursore è NetApp ma anche gli altri vendor sostanzialmente lo si stanno attrezzando e questi invece sono gli object based storage come dicevo il dato è gestito come oggetto avviene la separazione solitamente cosa avviene avviene il dato in sé è il metadato in questa soluzione il metadato è separato dal dato è separato fisicamente qui quindi vuol dire il gestito con strutture fisiche diverso e la maggior parte delle operazioni che non convongono il dato sono fatte esclusivamente sui metadati si veloci si hanno un'operazione questo concetto può essere applicato a diversi livelli può essere applicato a livello di file system e abbiamo una soluzione tipo lustre può essere applicato a livello di cloud storage abbiamo soluzioni tipo swift può essere applicato a livello di storage hybrid tipo clusterfs un vastissimo di relato che fornisce sia dati come file sia dati come oggetti e poi si hanno le soluzioni quelle delicate che si sono fatti facebook eccetera scusami sì a parte l'ultimo che ci non conosciamo questo i primi tre sono sostanzialmente file system no? sì però sono gestori sì sono diversi tipi di gestione però tutti come file system sì però ad esempio uno caratteristica magari hanno le app e le posizioni tu sì 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 no cioè lustre tu lo vedi come un è un file system lustre però sono gestori di database di no 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 questo rientrano nel senso nella categoria passiamo come file system però è un po' un po' diverso HDFS il file system di adub ha una sua struttura di bloc interna per garantire affidabilità il dato è replicato questo non è banale per lo studio di edizione di dati ed è ottimizzato per attività di inserimento lettura ma non per gli aggiornamenti anche adub non è pensato per gli aggiornamenti adub nasce per il batch processing comunque l'HDFS è un file system di adub quindi una grossa componente di adub si può sostituire anche con altri file system la parte diciamo di gestione del dato ed edub non so quanto poi performi bene però esiste questo sostanzialmente è lo schema di HDFS si ha un node master che gestisce l'accesso al dato il client contatta il node master per il namespace per la gestione degli eccessi e fino a quando non si ha la IO vera e propria non si passa dal data node slain il concetto simile può essere applicato sull'Ust nel senso che abbiamo un gestore di metadati e un gestore del dato tutta l'interazione avviene iniziale con il gestore di metadati e poi si passa al gestore del dato se voglio scalare aggiungo nodi di metadati e nodi di dati andiamo alla parte diciamo di altro elemento componente chiave la parte dei no SQL datastore qui è un mondo nel senso che non esiste la definizione di no SQL sostanzialmente se visto che non andava bene si sono inventate nuove tecniche di organizzazione del dato per scalare orizzontalmente per avere performance inizialmente all'interno di sempre progetti aziendali poi nascono da questi progetti open source che evolvono i produttori classici di ieri di BMS hanno seguito ora con un SQL fino a qualche anno fa non c'era è stato presentato adesso sul mercato il prezzo da fare qual è? hai prestazioni hai full tolerance però a volte è di consistenza ma il dato non è aggiornato allo stesso tempo in tutte le repliche e quindi mai accetto un delay nell'avere l'aggiornamento le famiglie si possono organizzare in database realizzati per colonne dove è importante nell'eroggiare l'accesso al dato andare per colonna sono database che permettono andare per colonna con un BB razionale verso 3 vai orizzontalmente qui riesce ad accedere verticalmente alla colonna il più utilizzato Cassandra nel progetto che stiamo facendo su Master Big Data stiamo provando a utilizzare Cassandra che in letteratura sembra parecchio performante per grosse serie temporali per gestire tanti a livello temporale poi abbiamo sistemi che gestiscono a livello documentale i sistemi chiave valore i sistemi che permettono di esplorare il dato visto come grafo qui sostanzialmente e tra di loro sostanzialmente si differenziano ovviamente MongoDB che è un document store agli indici non consente join rispetto a un software direzionale permette di avere le procedure come ad esempio Oracle ora con il c'è spostano scrivere le procedure e spostare una logica applicativa all'internet quindi MongoDB lo permette però per esempio la limitazione è che il giovane non te lo può fare Cassandra è Cassandra sostanzialmente è un altro esempio è schema è schema free sostanzialmente non bisogna definire uno schema prima il dato è replicato non ha single point of failure non ha concetto di mass slayer ma i vari modi sono tutti dei peer capite bene che ogni ogni sistema è differente quindi crearsi un'esperienza su questi sistemi può dire che darsi tante esperienze su prodotti diversi questo è un esempio abbiamo visto un esempio di sistema per quanto riguarda i grafici infine per quanto riguarda questa categoria esistono i science SQL DB che sono dei DB che permettono di operare tramite un linguaggio con tramite un'estensione di linguaggio SQL direttamente su array multidimensionali spostando quindi una parte della delle operazioni possono sostellare sul DB e forniscono degli operatori tipo si può andare a selezionare direttamente un subset di un'immagine si può fare l'estensione magari di un'immagine su dimensioni diverse se poi la parte avvale del processo si continua su altre dimensioni si può scalare e addirittura permette di fare l'encoding decoding in formati da per esempio questa query qui tira fuori un CSV questo applica operatore questo costrutto applica l'operatore di somma su questo array su questa selezione alcuni di questi DB sono CDP CS SQL però anche vi sono dei plugin all'interno di Postgres e PostGIS Raster c'è l'Oracle ha un suo plugin Oracle qualcosa Raster cioè questo è un altro filone sostanzialmente che si sta affacciando e la cosa importante è che si sta definendo lo standard questo non è il versetto totale Science SQL è un pacchetto no no Science SQL è un'estinzione del linguaggio si ma non è lo standard o non è ancora non è ancora approvato ma ci sono i plugin si si come spesso avviene magari sono dei prodotti energeti che poi portano verso una standardizzazione ultimo diciamo capitolo stiamo andando un po' lunghi se le dite di interrompere interrompiamo ok è la parte del processing che è l'altra parte fondamentale il problema qui è per tutti coloro che hanno affrontato il problema della programmazione distribuita è parecchio difficile sia se la si affronta lato programmazione parallela cioè eseguire un programma più velocemente su hardware parallele per quello che si fa con HPC oppure la programmazione concorrente cioè gestire in modo semplice distribuzione concorrente di 3 perché perché questo tipo di programmazione porta a un non determinist effetti non deterministici il problema qui qual è in questa equazione il problema qui è questo che nella programmazione parallela concorrente c'è bisogna gestire lo stato mutabile se noi vogliamo un comportamento deterministico dalla programmazione parallela concorrente dobbiamo togliere questo stato mutabile come si fa? cambiamo paradigma non c'è non c'è niente paradigma imperativo che abbiamo utilizzato fino adesso non va bene bisogna cambiare paradigma bisogna andare verso un paradigma funzionale questo è sostanzialmente lo schema tu quando programmi in modo parallelo in modo distribuito secondo il paradigma imperativo fissi nel tempo quello che deve accadere cambiando paradigma invece ci stossiamo su una dimensione spaziale il tempo ha meno importanza i frameworks Adobe Spark implementano questa logica secondo seguendo questa logica sono nati anche dei linguaggi che supportano questo tipo di approccio che è la programmazione sostanzialmente funzionale i puristi amano Scala Spark è scritto in Scala Scala è un'estinzione di linguaggio di Java cioè interoperabilità tra Java e Scala qui sono le spese Lambda è molto più sintetico quindi il trend va verso questo approccio qui Adobe sostanzialmente si compone due componenti il file system che abbiamo detto con quell'architettura e solo per il file system in paradigma mappa del virus scala orizzontalmente e come funziona sostanzialmente questi sono gli elementi principali abbiamo node name name node e data node che abbiamo già visto che gestiscono la parte di dati poi secondo il name node è una ridondanza del name node abbiamo un job tracker sostanzialmente che è il manager del job che si occupa dell'istituzione è un task tracker sostanzialmente va al contrario task tracker gestisce sostanzialmente il no no ho detto giusto task tracker gestisce l'instanza in map reduce task e riporta allo stato e il job tracker è sostanzialmente l'overall gestore del processing se ha l'input l'input passa in la fase di map produce un output intermedio la particolarità è che in questo output intermedio è iscritto sul disco quindi c'è il concetto di c'è la prestazione del disco poi c'è la fase di shuffle and sort che sostanzialmente è la passata trasparente e poi c'è la fase di reduce quindi sostanzialmente l'algoritmo deve essere scritto secondo questa logica deve poter mappare questa logica non tutti gli algoritmi mappano questa logica questo è un ecosistema sostanzialmente di prodotti su Hadoop nel senso che se questo è Hadoop c'è tutta la problematica di portare i dati da sistemi tradizionali o esportarli verso le sistemi tradizionali c'è la problematica di interrogare i dati che sono offre e quindi sostanzialmente sono nati diversi prodotti che utilizzando l'autico app per use permettono di accedere e di utilizzare il dato questo è una slide importante secondo me questo mi sa cosa ho lasciato in inglese però è una slide importante che dice quando un sistema di questo tipo può essere utilizzato batch processing il dato può essere partizionato le applicazioni sono imbarazzantemente parallele il dato deve avere una struttura semplice il problema della dimensione dei dati anzi non è un problema ma è la soluzione proprio per questa dimensione dei dati dei dati non strutturati e si prese soprattutto a calcoli di tipo statistici per gli altri tipi di problemi computazionali a dub la maggior parte delle volte non va bene quindi bisogna sostanzialmente trovare altre soluzioni ad esempio le computazioni iterative adupprano nella soluzione ogni interazione scrive sul disco portando tutte le problematiche di scrittura sul disco quindi sostanzialmente stanno nascendo delle altre soluzioni altre soluzioni soprattutto per la gestione di altri problemi computazionali sono ad esempio i framework tipo spark qui ad esempio delle chart Kness ha utilizzato Hadoop per scegliere Hadoop ha fatto una serie di test paragonando Hadoop con cachet con postres con cassandra con bongo dp qui sostanzialmente si vede la rate di inserimento degli oggetti a crescere il numero degli oggetti in base a questi test loro hanno scelto sostanzialmente Hadoop le photopie girano su questo cluster qui c'è tutto veramente l'overall poi c'è di risoluzione per la parte terapia per la parte di test e andiamo verso l'ultimo prodotto che si l'ultimo framework che rappresenta lo so dell'arte interno di processamento spark ma per reduce disco spark memoria avendo il dato di memoria si può molto più veloce si possono applicare altri e parecchi algoritmi per alcuni casi di problemi 40 volte più veloce di adulto stessa logica di parallelismo spinto però sostanzialmente è l'evoluzione viene dopo risolve parecchi problemi architetturali quindi queste sono per alcune tipologie di 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 algoritmi di data mining le prestazioni di duple le prestazioni di spark oltre al batch permette di fare interactive processing per chiare la sceglia puoi utilizzare Java Scala e Python poi se sei insensiato per le strade diciamo di scrivere script in Python c'è la scena e direttamente Python viene tradotto è compatibile con Hadoop cioè tu puoi avere il tuo ambiente con Hadoop con HDFS i dati già sistemati come vuoi tu installi sopra Spark che vede quei dati Spark vede su Cassandra quindi poi il mondo di cui diventa abbastanza complesso nel senso che tutti questi progetti queste soluzioni si intrecciano quindi bisogna avere una capacità di riuscire a dimenarsi su queste cose non indifferenti architettura di riferimento che è quella sostanzialmente dell'Amplab dove allora c'è un gestore di file che può sapere di FS cluster FS su un cluster ma esos è un gestore di cluster e ci può essere la dup sostanzialmente già installato e poi c'è Spark il framework ma Spark si porta dietro quattro importanti librerie streaming cioè si attacca tra i connettori che permettono di percarsi lo streaming di dati e trasformarti lo streaming in un batch processing in modo automatico ha la libreria di una serie di algoritmi che già lavora bene sui grafi machine learning library e Spark SQL per accedere da Spark a dati strutturati per interfacciarsi con la parte di dati già esistenti il dato è diviso organizzato interamente in resilient distributed dataset tutte le operazioni avvengono su questi dataset due concetti trasformazioni da un RDD si passa a un altro RDD tramite una trasformazione oppure su un RDD posso applicare delle azioni per ottenere un valore ho un RDD applico un account e ottengo un valore queste sono poi le caratteristiche delle varie dei vari componenti che dice però qui tutti questi non posso dire questo verifico ti faccio sapere questo dovrebbe essere già tutto disponibile quindi utilizzando questi strumenti con la potenza del framework secondo me si possono ottenere dei importanti esempi verso l'ambito di quindi adesso così Spark è molto meglio perché noi stiamo andando verso provare Spark perché tu con Spark non è che il MapReduce lo puoi sempre fare cioè MapReduce lo fai l'unica differenza che si può attivare e disattivare è il concetto di cache vuol dire che se tu decidi di cacheare il dato lo cache in memoria ovviamente requisiti sono che non è sempre di configurare un nodo le restituzioni ti dicono configura la memoria del nodo pari a della macchina è più lungina cioè si prende tutto la memoria della macchina perché per fare questi algoritmi in memoria io sei giusto per chiarezza la restituzione è software per machine e questo invece è la parte dei grafici è la visualizzazione solo l'ho messo dopo che c'è altro ma mi soffermo qui sostanzialmente l'ultima settimana non so se voi avete diciamo detto è uscita questa notizia siamo riusciti a creare un'immagine dove la luce effettivamente è vista come particelle e come onda quindi questa è importante sostanzialmente questo posso tirare l'importanza di avere una visualizzazione che dà la percezione del dato niente di importante esempio di grafici però sostanzialmente per andare alle conclusioni del fatto che in ambito scientifico la risposta di nuove tecnologie informatiche offre nuove possibilità di stazione di informazione a costo però complessità dei sistemi stessi dalla panoramica che è inersa c'è in sistemi ce n'è parecchie quindi diciamo un ente un istituto che vuole cimentarsi in questa parte della rete secondo me delle persone costantemente gemono e impiegate in ricerca e sviluppo a seguire questa tecnologia che se fai una missione e aspetti 5 anni per fare un'altra missione passa del mondo tecnologico tu ti sei perso è importantissimo una figura del data scientist una persona che riesce a gestire questa tecnologia avere la percezione quando conviene utilizzare una cosa quando non conviene utilizzare una cosa un evento importantissimo che c'è stato nel settore è stato il BITS 2014 è organizzato un workshop a ESRI sulla tematica del BITS data in ambito spaziale e osservazione della terra cioè se andate cercate BITS 2014 sul sito Google vi potete collegare alla pagina dell'evento ci sono tutte le presentazioni esclusivi in libro secondo me buona fotografia e dall'escussione finale è messo che comunque l'impulso che è concepito da una nuova per il settore spazio per il settore selezionare la terra è stato fondamentale sono aperte parecchie opportunità rimangono ancora un po' di strada percorrere la disponibilità dei dati per quello che tutti effettivamente i progetti condividessero il dato alle vere comunità e quindi avere poi standard per poter scambiare facilmente questi dati la federazione della capacità dei pros è un'altra cosa che abbiamo detto la standardizzazione di accessi la disponibilità anche ad ambienti collaborativi oltre a scambiare dati scambiarsi anche esperienze lavorare diciamo in team e in generale questa è l'ultima considerazione che volevo fare comunque già ho fatto nella prima parte è il discorso che è importante la fase di design perché se la fase di design pone dei vincoli stringenti spesso in progetti lungo e medio termine non si ha poi più la capacità di sfruttare nuove tecnologie che nel corso degli anni si presentano e che possono migliorare il modo in cui si affronta un problema quindi partire già con un handicap poi diventa la problematica diciamo che ho finito scusate 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 se vuoi passare le stagioni poi qui c'era oggetto una domanda la domanda su scala diciamo lì a parte il flusso scientifico di dati per appare se ragioni così via noi probabilmente saremmo interessati al flusso di dati ingegneristici e quando si parla anche di un terabyte al giorno insomma qui li viaggiano ah in realtà un terabyte non è un bit data ma siccome sono i terabyte ingegneristici si fanno no però è un po' che si è vera ma siccome sono i terabyte ingegneristici io vado a fare delle cose complicate come la analisis quindi multidimensionali diventa un problema sì sì di un problema certo è un problema di una assieme di un problema certo è un problema in effetti sempre parlando di framework e di comunicazione a mani di elementi in questo momento si sta parlando di queste cose all'interno di SCAR nessuno sta parlando di framework di data mining per esempio non è un'interessante inizio non è un'interessante del mondo dp ma a parte interessante del mondo dp che sono sempre fatti in generale non si è parlato proprio non si è parlato da sufficienza ecco comunque perché una lì per esperienza fucaia quello che accade è che si prende si fa una scelta tecnologica per quello come se si è costretto a fare l'estensione essendo open source questo non lo so non si può fare però bisogna avere buona capacità di manovare non è banale credete che la CNES hanno sviluppato un plugin su un map reduce che mappa il processamento di Gaia sul map reduce che si chiama cascading cioè la pipeline non è che ogni sviluppatore che mette a scrivere il map reduce c'è una nuova la tool layer che permette di mappare il processamento di Gaia su questo sistema per me è utile conoscere queste tecnologie che si fa come abbiamo visto quale pesa all'open source in tutto questo nel senso che com'è su questo l'ecologia è parecchio nel senso in ambito di data praticamente i prodotti sono per tutti open source ovviamente almeno in ambito scientifico ovviamente la parte enterprise è pure presente ad esempio la oracle che noi saliamo abbiamo un rapporto con la oracle ha creato una sua avventura una big data appliance che è una macchina digitalizzata loro diventano hardware software internet con tutti questi elementi chi danno una macchina con questa architettura con l'architettura con tanto disco storage con la lupis all'asso con le loro uno sql loro sono presenti tutti presenti nel mercato però in ambito scientifico quello che si fa non è quello che ho visto per mia esperienza è andare sui prodotti open source avere prodotti che ho usato anche se in alcuni casi poi si sceglie di avere delle distribuzioni alla fine proprio quando ti porta in produzione delle distribuzioni che ti danno il supporto si si con questa cosa dell'open source è comunque un problema nel senso che dalla parte dell'azienda che opera nel settore dell'editata è utile compro avere oracle perché caro oracle c'è un problema chi ha oracle risultato oppure nella stessa maniera abbiamo usato i margini di data è una garanzia ma anche per l'alto 106 c'è il don è sempre perché sono aperti ori nemici o per l'altra cosa acquista l'alanzia c'è un problema si in una cornetta quando mi viene avuto un ticket c'è qualcuno che mi risponde ma questa cosa è per la lunga c'è il IPC aveva Orton Works che è un'istituzione un'altra istituzione di claudera il prodotto è quello è quello che confezionano quello del prodotto e ti vengono il servizio questo è l'alanzia 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 no no è vero l'abbiamo guardato per il busto l'alanzia grazie a tutti ringraziamo di loro se non ci sono domani che stanno con Rosale grazie a tutti come? grazie